Ucciso con un ultimo, violento colpo alla testa, inferto con un grosso oggetto dalla superficie estesa, forse un sasso. Così, secondo l'autopsia, è morto il 33enne Andrea Dorcic, trovato senza vita la notte tra sabato e domenica lungo l'alzaia del Sile. L'esame del corpo, effettuato dal medico legale Alberto Furlanetto su incarico della procura, doveva stabilire la causa del decesso e cercare di datare la morte del giovane elettricista trevigiano. Il corpo, trovato alle tre del mattino di domenica, presentava una profonda ferita sulla parte posteriore della testa. Secondo l'anatomo patologo, Dorcic, sparito da casa lunedì sera, sarebbe stato ucciso 24, al massimo 48 ore prima del ritrovamento. Non un oggetto appuntito, quello con cui è stato colpito, di sicuro un oggetto grande, presumibilmente un sasso, e questo amplia le ipotesi. Chi lo ha ammazzato potrebbe averlo fatto d'impeto, afferrando la prima cosa che aveva sotto mano. Ma la forza con cui è stato ripetutamente colpito, fino all'ultimo fatale fendente, presuppone che l'assassino volesse finirlo. O non fosse in sé, e quindi fosse incapace di misurare la violenza dei colpi. Non è da escludere neppure l'ipotesi che sia stato il 33enne a essere sbattuto contro qualcosa, un pavimento, una parete. La morte è stata praticamente immediata. Non è escluso, infine, che il corpo sia stato poi spostato dal luogo dell'assassinio e abbandonato altrove. Tutti elementi sui quali ora proseguiranno le indagini di Carabinieri e Procura, piste tutte aperte, a cominciare da quella dell'ambiente dello spaccio e della tossicodipendenza, che aveva inghiottito il giovane rendendo difficili i suoi rapporti con la famiglia, tanto che Andrea pare fosse in procinto di andarsene dalla casa di Fiera.